Ciao a tutti, sono quella fantastica ragazza di nome Barbie Xanax e oggi vi farò una recensione su Arrugas, Ruge, il film è un film che parla di persone anziane, quindi il mio look così arretrato forse ha un senso questo film potrebbe piacervi se amate i film tratti da fumetti, però non del tipo Spider-Man e quant'altro ma più tipo Persepolis, Valtar Bashir, diciamo un altro tipo di fumetti ora ci sarà il cavillo sicuramente che chi dirà no, è graphic novel, pazienza, io non sono così formata sui fumetti quindi se ho detto qualche cazzata, pazienza, corroggermi questo film parla di Emilio e Miguel, due anziani, Miguel è un anomalo cicerone all'interno di un ospizio inizialmente per Emilio quel luogo è il simbolo proprio della fine della vita, in realtà capirà che è un nuovo inizio ormai avete capito, faccio proprio schifo nel raccontare le trame, quindi io vi consiglio di non ascoltarle mai da me perché sono proprio incapace il film è tratto dalla graphic novel di Paco Roca che nel 2008 ha vinto anche il premio nazionale di comics questo è il primo film d'animazione che vince nei premi Goya sia nella categoria proprio dei film d'animazione e sia per la categoria miglior sceneggiatura dove stavano in competizione anche con Almodovar ha un film pluripremiato, è già uscito all'estero ovviamente in Italia c'è sempre quella arrancata finale sarà distribuito anche in Giappone dallo studio Ghibli insomma uno studio così che conoscono in tre persone al mondo questo film mi è piaciuto perché parla dell'Alzheimer con uno sguardo dall'interno diciamo Roca ha detto che il fumetto non è stata un'invenzione il personaggio di Emilio è preso da un personaggio realmente esistito che esiste ancora, non lo so se è morto o no quindi non lo so in pratica è ispirato al padre di uno dei suoi milioni amici inoltre ha detto di aver veramente conosciuto una donna che guardava dalla finestra e era convinta di viaggiare su un treno e addirittura per farla mangiare bisognava convincerela di portarla al vagone ristorante Roca ha detto che questo lavoro è nato proprio dalla necessità di dover parlare della vecchiaia che è un argomento che spesso la letteratura e il cinema non affrontano fanno finta che non esista Michael Caine infatti quando vinse l'Oscar disse proprio che i ruoli da protagonisti erano per gli attori giovani invece per gli attori non più giovani erano lasciati tutti i ruoli da non protagonisti questo film è decisamente di qualità è un film indipendente, è un'animazione spagnola e quindi apprezzo che ci sia qualche distributore che vuole rischiare per portarlo anche in Italia per una volta portiamo qualcosa di qualità la cosa che mi è piaciuta è che ovviamente non banalizza la malattia dell'Alzheimer ma lo usa come stradagione narrativo il film ha quasi la chiave narrativa del viaggio proprio come ogni tappa della vita la malattia è un processo psicologico ma nella mente di Emilio prende forma e ha veramente materia diventa materiale e alla stessa maniera confonde lo spettatore perché concretizza i sintomi e li materializza questo fa sì che lo spettatore ha la stessa incertezza che ha il personaggio proprio sulla propria condizione clinica basta dire propria e così ovviamente crea un legame di empatia immediato il film punta su un messaggio sociale ed educativo ovvero se adesso l'Alzheimer è quasi qualcosa di cui le famiglie si vergognano non dovrebbe essere così così come tutti gli altri problemi legati alla senilità spesso nella nostra società sono marginalizzati ghettizzati così come le persone che ne sono colpite e non dovrebbe essere così Roca materializza un po' il discorso di Michael Caine la vecchiaia diventa un personaggio non protagonista all'interno del contesto sociale o familiare il film mostra proprio il contrasto sociale se gli ospizi permettono alla famiglia di vivere con più semplicità con più agi diciamo lasciando i propri cari lì purtroppo questa facilità aumenta la distanza generazionale infatti vediamo il nipote che non ha quasi per nulla un rapporto emotivo con il nonno secondo me questo film è efficace proprio perché è complesso sviluppa i personaggi su più piani questo li rende veri, credibili, più vicini a noi e anche possibilmente possiamo riconoscerci riconoscervi qualcuno che conosciamo l'ospizio in realtà non è mostrato proprio come una prigione ma alla fin fine verrà mostrato quasi come un centro estivo per ragazzini in cui i ragazzini si alleano contro gli educatori la parte migliore secondo me è la costruzione dei personaggi che sono caratterizzati, sono umanizzati non sono stigmatizzati come i cartoni che ascono dagli studios statunitensi in cui c'è una divisione netta tra buono, cattivo, simpatico, antipatico i personaggi di Emilio e di Miguel sono nettamente opposti e per questo costituiscono un perfetto incastro per diventare il fulcro della narrazione infatti se notiamo la gentilezza dell'uno corrisponde perfettamente ad un aspetto burbero dell'altro il personaggio di Miguel è secondo me quello più interessante ha un'evoluzione maggiore, decisamente netta all'interno dello sviluppo del film viene presentato in modo molto ambiguo, molto sospettoso il film inizia con un luogo comune dell'ospizio ovvero visto come il capolino della vita dove la persona è un risultato ed è un fine non può cambiare più, non può diventare più nient'altro e soprattutto la vecchia riavvista come qualcosa che accomuna tutti in modo uguale che depersonalizza l'individuo poi ovviamente si scoprirà che non è così questo film parla delle malattie che colpiscono gli anziani dell'amicizia, dei sentimenti e di come sia necessario trovare sempre dei traguardi per migliorarsi per avere un obiettivo anche se sia interdietà perché proprio quelli sono lo slancio vitale e di come tutte quelle piccole manie degli anziani sono in realtà solamente dei ricordi antecedenti che li hanno così colpiti da sfociare così nell'anzianità vi ho raccontato pochissimo della trama perché vorrei farvi scoprire questo film che secondo me è come una piccola fermata d'autobus all'interno di un viaggio è tremendamente vero, vi colpirà il cuore e io piangevo addirotto mentre lo guardavo perché rivedevo qualcosa a me molto vicina secondo me questo film non è quel tipo di film che vi fa piangere per la drammaticità o per la tristezza non vi trasmette tristezza ma vi trasmette un briciolo di verità che vi colpirà perché è tremendamente vicino a qualcosa che avete vissuto è un film d'animazione che ha tantissimi momenti divertenti secondo me tocca un pubblico trasversale parla di eventi molto difficili però ne parla in maniera semplice così da poter comunicare sotto due registi diversi per il bambino e per l'adulto allo stesso momento spero che vi piaccia poi se lo vedete fatemi sapere cosa ne pensate ciao ciao